Durante l'ultimo concerto di Mambolosco devutosi a Reggio Giulio Torrini è salita sul palco per intrattenere come spesso succede durante i suoi eventi Questa volta però il pubblico è stato molto molto maleducato Andandola ad insultare senza un motivo preciso Chiamandola puttana e altre offese pesanti che non vi so neanche a dire Vi lascio filmati, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video, linea lo studio Questa è la pallino woman Questa è la pallina Questa è la pallina